bentornati tutti quanti su gara e buon figlio di urso per il vostro session allora analisi mattutina proprio mi sono appena svegliato e ho visto il trailer di gozilla e kong e il nuovo impero che il sito stano di ieri sera intorno tardissimo fossero le 9 che è stato pubblicato il trailer ragazzi è una roba assurda nel senso io non so neanche che cosa dire nel senso abbiamo capito che questo villain si mi esco rosso è il cattivo abbiamo capito che la guerra arriverà fuori dalla terra cava se tra l'altro ho uscito questo poster stupendo con gozilla e kong a rio desidero quindi credo che loro combatteranno in diverse location sulla terra nel trailer si vede anche la mano gigante di kong usile fuori dal deserto in esitto davanti alle piramidi quindi secondo me la terra cava collega tutto il centrale della terra come ha fatto delle già nel primo fine di gozilla vs kong e questi potranno uscire da dove vogliono in diverse parti del mondo abbiamo visto anche Godzilla che si evolve con queste spine viola molto figo perché anche il razzo atomico non è più blu ma è viola quindi non so se si è voluto più potente diventato o un'altra roba figa l'idea di farlo evolvere molto figa a meno le creature sono molto personalizzate e anche la cosa interessante è che per tutto il trailer si vedono loro Godzilla e kong e altre creature quindi gli umani sembra che stavolta abbiano poco spazio e finalmente alleluia perché io da un figlio del monster invece mi aspetto questo non che in Godzilla vs kong sarà poco spazio loro due anche una terra cava si vedono molti animali però il problema che se ha sempre la 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 narrazione umana che per carità serviva per arrivare poi a meca Godzilla nel finale però non mi interessava nel senso io voglio vedere loro loro che combattono tra altre creature loro due che si bastonavano ecco qui loro due che si alleano nel finale che combattono insieme una roba fantastica fantastica vedere Godzilla e Kong poi se quest'altra semmietta un po più piccolina sempre di color rosso non riesco a capire se sia dei flashback di scarda piccolo che kong conosceva però non penso eh perché a un certo punto uno dei personaggi umani disse ma quello mini kong quindi non è possibile che gli umani abbiano già conosciuto loro da piccoli c'è scarda piccolo scarto perché ma si così il cattivo il la simia e tra l'altro si tratta come re scar quindi fa proprio capire che kong non è più re della terra cava ma è scar oppure scar è re della terra cava bisogna vedere un po sta roba qua perché in effetti se sei stato un villain nella terra cava fino adesso perché in Godzilla vs Kong non ne hanno mai citato ecco magari è stato nascosto per tutti questi anni tanto si disse che lui sarà il titano che comanderà tutti gli altri titani e manderà guerra sugli umani si dice non lo so sembrerebbe un gran bastardo e la cosa mi piace perché il fatto che kong adesso non possa battere non mi fa piacere questa cosa che si realiare con Godzilla be sconfissero e niente ragazzi il trailer funziona alla grande mi è piaciuto tanto scarpe quel poco che lo fanno vedere mi sia un villain sia caratteristamente che sviluppato anche abbastanza bene a livello estetico non capisco perché kong è stato appunto tipo un brasso con con una spessa di di dispositivo attaccato sembrerebbe una specie di 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 roba meccanica non lo so non lo so forse magari lì darà qualche upgrade gli umani per aiutarlo non lo so visto che comunque non è la prima volta che aiutano kong gli umani siccome ora qui si tratta di guerra sulla terra perché stiamo parlando di un cazzo di di simione rosso che vuole conquistare gli umani infatti il regista aveva detto che in un'intervista che avrebbe che questo film era un po' riferimento al pianeta delle simie nel senso che mi ha un suo simpansè gigante che inizia ad attaccare gli umani fuori dalla terra cava ecco secondo me il fatto che vediamo già kong che si scontra contro questo sono due simie se poi se il simpansè piccolino bisogna capire se il figlio di kong mi riesco a capire perché di colore rosso come quello di scar non non capisco boh sta roba bisogna vedere il film probabilmente non te la spiegheranno neanche con il prossimo trailer che arriverà tra qualche mese secondo me però magari mai di una mai magari il resiste ha detto che saranno anche circa otto minuti di combattimento e di sene solo con le creature quindi secondo me il fatto di dare tutto lo spasso ai titani mi piace è un'ottima idea un'idea anche intelligente perché ripeto il monster va a essere di puntare su questo e mi piace mi piace perché è un trailer che ti cattura ti fa capire quanto è grossa la posta in gioco insomma ragazzi per me è ok non vedo la livello io già avevo hype ancora prima di sto trailer adesso non ho fatto dare ancora di più e quindi ora se l'ho ancora di più l'hype perché è uno dei due film che aspetto più all'inizio dell'anno questo è ghostbusters la minassa grassiale secondo me è un'ottima idea poi il fatto che Godzilla e Kong attirerà tanto il pubblico in sala tantissimo perché vedere loro due che combattono insieme sento oltre più bello di vedere loro due che si menano per dirvi che poi alla fine di Godzilla vs Kong diventano alleati per combattere Mecha Godzilla ok però qui secondo me c'è proprio un legame stretto che terrà i due titani poi non lo so magari qualcuno di due si lascerà le penne stavolta Godzilla non credo perché si è voluto un intanto ancora più ultra power di prima magari Kong si lascerà dopo sto film non lo so secondo me la posta in gioco è talmente alta stavolta che comunque uno dei due titani potrebbe lasciarsi io spero nessuno di due perché sono offensiato tantissimo a Kong e Godzilla già nei film di King Kong quando alla fine muore solo in Paisal Pieding mi serve sempre la lacrimussa perché alla fine Kong non è cattivo non è mai stato cattivo come titano fa quello che deve fare nel senso fa le sue scelte nel senso anche qui se vedete anche a un certo punto sulla nave in Godzilla vs Kong difende la bambina con cui è legame la bambina in disena ecco non è cattivo Kong ma neanche Godzilla volendo e che fanno quello che fanno per per un fatto naturale ricordiamoci che nel primo Godzilla del 2014 lui doveva combattere contro i muti quindi doveva difendersi sì dai muti ma non se lo aveva praticamente con gli umani non gli fregava niente degli umani sinceramente poi nel secondo va a combattere Ghidorah e gli altri titani anche io fregavo un cazzo degli umani e in Godzilla vs Kong sentiva la minassa di la minassa della testa di Ghidorah che era attiva e quindi stavano creando il Mecha Godzilla anche lì ecco perché attaccava gli umani insomma e tutta una sostificazione del perito di Godzilla non è cattivo manco per un cazzo ecco manco qui manco qui perché lo vogliamo combattere insieme a Kong quindi secondo me anche qui vorrà proteggere ancora un po' gli umani per quel poco che gli interessi diciamo che si terrà molto più Kong a proteggere gli umani che Godzilla però vediamo un po' come si svilupperà la trama e la storia fate speramento sotto come pensate di questo tra il video se vi è vissuto e noi ci vediamo al prossimo video sotto un link basso un pubblico ricordate tutti quanti social